Ciao in questo video voglio brevemente presentare il mio ultimo prodotto dolore di spalla la guida completa. Dolore di spalla la guida completa è una videoguida analoga a quelle che ho già prodotto su cervicale, anca e mal di schiena dedicata a tutti coloro che soffrono di dolore all'articolazione della spalla. In breve la guida non contiene nessun rimedio miracoloso o procedura magica che i dottori non vogliono che tu sappia. Contiene soltanto gli esercizi, i consigli, le tecniche che si sono dimostrate più efficaci nel migliorare il dolore alla spalla. La cosa che le rende particolare però è questa non c'è una semplice lista di esercizi o consigli anche perché ci sono più di 40 esercizi nella guida ma c'è una procedura ben precisa per scegliere soltanto quelli più adatti al tuo caso. In questo modo avrai la sicurezza che 1 farai solo ciò che è adatto alla tua situazione perché lo sceglierai lo vedrai con l'apposita procedura e 2 avrai l'impegno di tempo minimo la procedura è studiata per rubarti al massimo 10 15 minuti potrai fare anche di più se vorrai ma la base è 10 15 minuti o poi predisposto delle sezioni a parte per problemi particolari come ad esempio il dolore della spalla quando si fa attività sportiva o il dolore nella spalla specificamente in palestra. In generale questa guida ti può essere utile se hai problemi dei tendini che sono poi il 90 per cento delle problematiche di spalla quindi parlo di tendinite del sovraspinoso sottoscapolare capolungo del bicipite in generale problemi della si chiamano della cuffia dei rotatori tendinopatie calcifiche o quella che viene normalmente definita sindrome da conflitto. Invece sconsiglio la guida a chi ha problematiche un pochino più particolari come postumi di intervento chirurgico oppure lesioni complete dei tendini in attesa magari di intervento chirurgico o anche a chi ha la capsulite adesiva la cosiddetta spalla congelata perché quelle sono situazioni decisamente un po più particolari. Tutto qua nessuna promessa irrealizzabile e nessun miracolo solo un protocollo basato su solide evidenze scientifiche che ti consentirà di portare la tua spalla nelle migliori condizioni possibili. Nella maggior parte dei casi portare la propria spalla nelle migliori condizioni possibili significa liberarsi dal dolore. Per acquistare la guida trovi i riferimenti nella descrizione del video quindi non mi resta che augurarti buon lavoro con dolore di spalla la guida completa.